Hola hola! In questo video vi parlo della routine di skin care dopo l'estate per rimuovere le macchie. Subito il video! Ben ritrovati, bentornati o benvenuti a quelli che siete nuovi in questo mio canale di YouTube dove ogni settimana vi parlo di skin care, di come curare la vostra pelle, a volte parlo anche di capelli ma soprattutto parlo della pelle del viso, a volte anche della pelle del corpo ma la mia passione è la pelle del viso e quindi ogni giovedì, come sapete da 4-5 anni, non mi ricordo, vi parlo di come curare, come scegliere i prodotti e soprattutto per creare consapevolezza in un mondo della cosmetica che è veramente vasto e tante volte non sappiamo che prodotti e scegliere per abinarli e per creare la nostra routine personalizzata di skin care per avere una pelle più bella. Non ne stiamo parlando di trasformare la pelle ma almeno di avere una pelle più luminosa senza o con pochi segni dell'invecchiamento o rimuovendo qualche segno dell'invecchiamento o anche qualche difetto tipo brufoli, cicatrici eccetera. Ma per quelli che ancora non mi conoscono mi presento, io sono Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica, lavoro e vivo qua a Milano, da dove vi sto parlando. In questo video, in questo canale non faccio il medico, va bene, faccio un amico vostro che vi parla della cosmetica perché è stata sempre una mia grande passione e questo accento se non lo sapevate non è italiano, lo avete sentito, sono spagnolo di origine ma da tanti anni a Milano. Quindi qua sotto, se volete, c'è il tasto di iscriverti al mio canale e anche il campanello di modo che ogni volta che pubblico un contenuto ti arriva l'avviso e se mi volete seguire dal cellularino più veloce eccetera, mi trovate anche su Instagram e su TikTok. Ma questi video lunghi, solamente li trovate su YouTube, d'accordo? E che vi volevo dire è che tutto quello che io parlo in questo video, quasi tutto quello che parlo in questo video, trovate l'informazione nell'info box e mi potete fare tutte le domande. Alla fine del video o questo o questo se vi piace o se non vi piace e anche l'audio se lo volete sentire mentre camminate, mentre siete in macchina, in palestra eccetera, lo trovate nel mio podcast di Spotify che si chiama La Cosmetica con Luis Campos, d'accordo? E andiamo al sodo. Abbiamo finito l'estate, siamo a 19 settembre quando verrà pubblicato questo video. In teoria l'estate è finita e ci sono le macchie perché sicuramente, incluso se non avevi macchie, prima dell'estate saranno comparsi, qualcuna sarà comparsa di sicuro, anche a me pur proteggendomi, mettendomi il capellino, eccetera, qualche macchia si forma e se avevi le macchie sicuramente siano più evidenti. Perché si formano queste nuove macchie? Allora, quando siamo esposti al sole, pur mettendo la protezione solare, pur mettendo il capellino, pur estando all'interno, eccetera, un pochettino ci abbronziamo. Soprattutto le persone con la pelle più oscura, io sono una carnagione fototipo 3, più o meno perché ho i capelli oscuri e quindi tendo a essere bianco d'inverno, ma mi posso abbronzare tanto di estate, quindi mi abbronzo. Cosa vuol dire che mi abbronzo o che vi abbronzate? Che le nostre cellule, i nostri melanocita, che sono le cellule che abbiamo nella pelle e che creano la melanina, creano appunto la melanina, che è il colorito della pelle, una molecola che dà il colorito alla pelle e che serve non altro che di escudo alla pelle per proteggersi. I melanocita di solito si situano nello strato più superficiale della pelle, nell'epidermide, e da lì creano la melanina giusto per creare un escudo e per prevenire che i ragli solari vadano ad entrare nel derma o più profondo nell'ipoderma e quindi occasionare dei danni al nostro DNA delle nostre cellule che favoriscono l'invecchiamento delle cellule e di conseguenza la comparsa di rughe, perdita di elasticità, eccetera. La melanina fa quello, fa lo escudo, un escudo di protezione. Ed è molto bella quando ci abbronziamo, ma quando passano i giorni dopo l'estate, dopo che siamo stati esposti al suolo, quella melanina comincia a salire sugli estratti ancora più superficiali, fino a che si accumula nell'ultimo estratto, nel più superficiale, che si chiama estratto cornio, dove ci sono le cellule morte, dove le cellule hanno perso la sua vitalità, sono morte e quindi si vanno a staccare della pelle per dare passo all'arrivo di nuove cellule. In tutto questo cammino, in tutto questo passaggio che fa la melanina da una parte un pochettino più profonda a una parte più superficiale, la melanina si può depositare. La melanina si può depositare e possono crearsi delle macchie. Cosa succede dopo l'estate? Che quando va salendo la melanina a stratti più superficiali, in quel caso noi avremo dei momenti che perderemo celluline da una parte, celluline dall'altra e quindi la perdita del colorito, della bronzatura, può essere non uniforme, dandosi la comparsa di macchie. E quelle macchie, la cosa fondamentale è aiutare la nostra pelle a ricambiare quelle cellule morte dopo l'estate per evitare appunto che quella melanina si accumuli, rimanga raccolta e quindi crea una macchia definitiva. Poi se per caso avevate prima le macchie, queste nuove si andranno a sommare a quelle che avevate o quelle che avevate si vedranno più oscure perché forse tu hai la macchia, l'accumulo di melanina che avevi già in passato e sopra si è creata un altro accumulo di melanina che si sta per staccare ma che a volte non si stacca e quindi fa che la tua macchia sia più evidente. Come possiamo aiutare la nostra pelle per rimuovere quella melanina? Per rimuovere quella melanina che si sta, diciamo, smaltendo utilizzando gli esfolianti. La settimana scorsa vi parlavo degli esfolianti da utilizzare e questa settimana vi continuo con questo argomento degli esfolianti. E quindi gli esfolianti di solito sono gli alfa idrossiacidi quindi il glicolico, il lattico, il fitico, il mandelico, eccetera e anche i beta idrossiacidi come il salicilico ma il salicilico non ha una funzione tanto smacchiante il salicilico ha una funzione più di pulizia della pelle di entrare nel poro quindi atto per le persone con la pelle grassa e anche se fa anche esfoliazione e può aiutare anche alla rimozione delle macchie quindi se hai la pelle grassa un prodotto con acido salicilico per te andrebbe benissimo. L'altra cosa è che ci sono altre sostanze oltre agli acidi c'è la papaina, ci sono gli escra, eccetera quindi in base al tipo di pelle possiamo adattare l'acido che scegliamo e poi ci sono quelli che sono veramente più esmacchianti per esempio l'acido glicolico è il migliore per smacchiare le macchie dentro degli alfa idrossiacidi è quello che fa esfoliazione ma che allo stesso tempo ha la capacità di penetrare un pochettino più in profondità perché la molecola è più piccola e quindi rimuove la melanina ci sono altri acidi che rimangono completamente in superficie che vanno molto bene per le persone con la pelle sensibile ma per rimuovere veramente le macchie rimangono un pochettino al minimo e poi ci sono altri ingredienti in cosmetica che possono servire anche per rimuovere le macchie e che non devono essere per forza gli acidi quindi quello che vi volevo illustrare è che in questo periodo adesso di settembre a ottobre non è che dovete fare una routine antimacchia specifica se no che potete dentro della vostra routine mettere un prodotto che contenga degli ingredienti antimacchia e soprattutto che contenga degli acidi va bene? e quindi negli step della routine che è detersione, essenza o lozione o mist come lo vogliamo chiamare, siero, crema possiamo in qualsiasi di quegli step mettere un acido non vi consiglio di mettere acidi in tutti gli step se non avete una pelle resistente se avete una pelle resistente forse lo potete tollerare se no avete una pelle resistente non si deve fare e vado a presentarvi qualche prodotto che ho selezionato senza perdermi tanto che come spiegazione penso che mi dimenticavo la frequenza d'uso di solito in base al prodotto si possono utilizzare più o meno frequentemente e adesso ve lo spiego mostrandovi qualche prodotto per illustrarvi come si possono utilizzare il primo prodotto che vi presento è il TAS REMOVE dei cosmetici magistrali è un detergente, un gel detergente che dentro c'è l'acido glicolico nei detergenti le aziende cosmetiche possono per legge, per regolamento mettere una concentrazione un pochettino più alta di acido in questo caso come ho detto contiene l'acido glicolico quindi uno si detergia il viso o una si detergia il viso lo lascia un pochettino in contatto per qualche secondo di modo che l'acido glicolico possa fare la sua funzione e dopo si risciacqua e quindi si continua con tutto il passaggio del resto della routine se hai una pelle resistente lo puoi utilizzare giorno e notte se hai una pelle sensibile devi adattare forse solamente alla notte o forse solamente a giorni alterni lo devi provare, vedere se la pelle si irrita se non si irrita vuol dire che lo puoi utilizzare più frequentemente se invece si irrita devi scaglionare un pochettino l'uso di questo cosmetico ma ricordatevi che nella detersione l'ingrediente attivo può essere più concentrato perché? perché poi va risciacquato quindi non rimane in contatto con la pelle quindi non c'è tanto rischio di irritazione della pelle secondo prodotto che vi volevo proporre che vi volevo presentare penso che sia la prima volta che parlo di questa azienda di Agustinus Bader vi presento la lozione The Perfect Tone of the Essence qua c'è un pochettino di confusione perché l'ho trovato nei siti web italiani dove potete comprare sotto vi lascio qualche link l'ho trovato che qua in Italia ancora lo chiamano The Perfect Tone mentre che nel sito ufficiale del marchio lo chiamano The Essence ma da quello che ho visto delle caratteristiche se non è sbaglio perché non un prodotto che io abbia utilizzato ve lo dico ma ho visto le caratteristiche e da quello che ho visto e mi sembra che sia lo stesso prodotto sono quasi convinto se qualcuno dice di no che sbaglio per favore me lo fate sapere che così anche io imparo perché anche io posso sbagliare prodotto costoso quindi da oggi comincerò a mettere qualche prodottino costoso sì perché costoso perché so che ci sono delle persone a cui piace anche la cosmetica un pochettino di lusso e di questo ne parleremo perché ne avevo già parlato ma ne parleremo ingrediente principale c'è questo TFC8 che chiamano loro che è un Tiger Factor Complex dove c'è un complesso di aminoacidi di vitamine di minerali di peptidi e poi nella composizione quando si va a vedere c'è l'acido fitico c'è il glucono lactone c'è l'acido salicilico e anche la papaina l'acido fitico fa un pochettino di esfoliazione leggera il glucono lactone funziona molto bene perché è una molecola grande e va a esfoliare in superficie l'acido salicilico entra nel poro e pulisce bene il poro e poi la papaina fa una esfoliazione enzimatica oltre a quello contiene prebiotici e contiene la vitamina E o la vitamina E o tocoferol che è l'enitiva quindi stiamo parlando di un'essenza che in questo caso sapete che in passato ho parlato dei tonici dicendo che i tonici non erano una cosa che io ritenevo utilissimo ma se contengono degli ingredienti attivi che ti preparano la pelle sì in questo caso dischetto di cotone o con le mani questa è una cosa che lo fanno tanto le coreane si mette nelle palme delle mani si bagnano le mani e poi si tampona su tutto il viso senza stare a sfregare si lascia asciugare e vai ai passi successivi della routine di skin care così stai esfoliando la pelle preparando la pelle all'arrivo di nuovi ingredienti attivi per la tua pelle quindi un prodotto costoso lo riconosco ma dalla recensione che ho letto e da qualche paziente mio che so che quando è andato negli Stati Uniti si trova negli aeroporti eccetera lo ha comprato e gli è piaciuto ma si trova negli aeroporti non negli Stati Uniti anche qua Malpensa e Alinatel li ho trovati non li ho mai comprati perché costicchiano ma mi sto incuriosendo e li voglio provare quindi vi parlerò sicuramente più in futuro continuiamo dopo il tonico possiamo utilizzare un siero e quindi in questo caso vi ho scelto questo della Paula's Choice lo Skin Perfection della Paula's Choice che è un siero gel siero quindi gel quasi trasparente all'8% di acido glicolico molto facile da utilizzare quindi uno dopo da tergersi dopo aver utilizzato un tonico che non sia questo di Agustinus Bader perché ha degli acidi quindi un altro tonico che potete utilizzare o un'altra essenza o non è necessario quindi la pelle detersa applichiamo questo siero gel all'acido glicolico all'8% oltre a contenere l'acido glicolico contiene il PCA che è un idratante il sodio PCA e contiene anche il pantenolo il pantenolo è un lenitivo va bene la vitamina B5 un pelle lenitivo di modo che previene l'irritazione che potesse causare l'acido glicolico all'8% che gli ha una percentuale un pochettino alta una pelle sensibile forse fa fatica a tollerare questo prodotto dopo che abbiamo applicato il siero passiamo all'idratante alla crema idratante quindi uno dice va bene io posso continuare utilizzare il mio detergente normale che ho a casa posso utilizzare i miei sieri che utilizzo a casa la mia vitamina C la mia niacinamide quello antimbecchiante che ho eccetera ma voglio una crema schiarente una crema smacchiante da utilizzare di giorno e di notte soprattutto di notte vi consiglio le creme sbiancanti utilizzate o schiarenti o antimacchie utilizzarli di notte se l'etichetta dice che si può utilizzare di giorno allora le utilizzate di giorno altrimenti utilizzatele di notte perché? perché sono creme che di solito appunto contengono degli acidi quindi degli acidi che essendo in crema sono meno concentrati ma rimarranno durante tante ore in contatto con la pelle quindi svolgeranno il suo lavoro dovuto alle ore di contatto con la pelle e non tanto per la concentrazione evidentemente la concentrazione è importante del principio attivo dell'ingrediente attivo ma soprattutto anche il tempo di contatto con la pelle quindi le creme di solito sono più leggere più morbide chi ha una pelle sensibile vuole utilizzare una crema smacchiante sbiancante o antimacchie è ottimo utilizzare gli ingredienti attivi come creme e non come sieri perché i sieri possono irritare un pochettino di più e come crema sono più morbidi in questo caso vi presento questa di Sisley e adesso mi ucciderete perché anche questa costicchia tantissimo ma ve l'ho detto che adesso comincerò a fare un pochettino di mix tra prodotti economici e prodotti costosi e continuerò a parlarne di questo che è la Fito Blanc La Noite di Sisley a base di alghe è arcobaleno sono strano ma così alghe arcobaleno ma contiene l'arniacinamide contiene la vitamina C contiene l'olio di karité contiene anche il pantenolo occhio ho letto l'inci non contiene acidi non ho trovato gli acidi ma contiene una cosa molto importante che è l'exoresorcinolo o resorcinolo il resorcinolo è una molecola che è molto simile all'idrochinone l'idrochinone è la molecola più importante che assiste oggi come oggi e da anni in dermatologia per rimuovere le macchie e funziona molto bene il problema dell'idrochinone è che è molto irritante quindi quando si crea una crema con l'idrochinone premessa l'idrochinone è un farmaco quindi deve essere prescritta deve essere con ricetta medica l'idrochinone almeno qua in Italia l'idrochinone va abbinato a altri ingredienti tante volte al cortisone per evitare l'irritazione che crea l'idrochinone c'è un derivato dell'idrochinone derivato o ingredienti attivi molto simili all'idrochinone che è il resorcinolo il resorcinolo non crea tanta irritazione come l'idrochinone evidentemente non è tanto potente come l'idrochinone per rimuovere le macchie ma sta dando degli ottimi risultati per rimuovere le macchie quindi questa crema di Sisley contiene il resorcinolo non è l'unica crema nel mercato che contiene il resorcinolo ci sono delle creme più economiche che contengono il resorcinolo ma questa in particolare contiene questo resorcinolo abbinata la necinamide a queste alghe arcobaleno che lavorano per la rigenerazione della pelle e per sbiancare smacchiare la pelle durante la notte quindi un ottimo prodotto da utilizzare solamente alla notte costicchia ma siccome si utilizza solamente alla notte il resto della routine lo fai più economico e questo lo fai più costoso e per ultimo vi volevo presentare un prodotto molto curioso che sono questi patch di FaceDeem ok? sono dei piccoli patch questa è una tendenza molto di moda negli Stati Uniti e anche in Corea la skin care in patch io sono in parte d'accordo in parte in disaccordo nel senso in parte d'accordo perché se tu hai una macchia localizzata ti applichi questo patch di notte carico di ingredienti attivi e quindi va a lavorare su quella parte localizzata dove hai la macchia quindi con la macchiolina quella macchiolina di notte mentre dormi ti metti due patch o te lo metti seguendo l'indicazione del prodotto che a volte lo devi tenere 30 minuti a volte 15 minuti eccetera qualcuno si tiene durante tutta la notte e poi lo rimuovi lo vuti sono in disaccordo in parte perché sono patch di cellulosa sì che è vero che la cellulosa si biodegrada quindi è biodegradabile ma vengono con la carta con l'imballaggio eccetera quindi lo trovo relativamente ecologico ok forse sbaglio perché non sono un esperto in ecologia nemmeno un esperto nella raccolta differenziata nel smaltimento dei rifiuti e nel riciclo dei rifiuti ma ritengo che se io posso utilizzare una crema o un acido o un siero o un'altra sì crema siero tonico eccetera che me lo posso applicare localmente sicuramente inquina di meno perché se compro un flacone che è in vetro o una plastica riciclata io me lo applico lì lo lascio localizzato e basta se invece voglio utilizzare questi vanno anche bene perché questi mi garantiscono che si appiccicano la pelle quindi sono in contatto con la pelle in quella zona dove c'è la macchia e stanno lì in contatto più tempo a base di liquirizia che è un ingrediente antimacchie del gelso bianco che è anche un ingrediente sbiancante o antimacchie e c'è anche la camomila per ridurre l'irritazione che potesse causare questi ingredienti ma la liquirizia il gelso bianco non crea irritazione chi crea irritazione è che dentro di questi patch se uno si va a leggere l'indice c'è l'acido glicolico c'è l'acido azelaico e c'è l'acido salicilico quindi il fatto che contenga l'acido azelaico mi funziona molto bene insieme al salicilico e insieme anche al glicolico per le macchie post acne o le cicatrici post acne quindi se avete ancora delle mecchioline rosse che stanno diventando scure post acne questi patch con l'acido azelaico potrebbero migliorare molto quelle macchie localizzate d'accordo? e allora questo era tutto quello che io vi volevo raccontare in questo video sulla routine post vacanze non vi ho creato la routine standard dicendo dovete utilizzare questo dopo questo dopo questo dopo questo ma ho voluto darvi delle dritte di modo che se avete una routine strutturata potete inserire qualcuno di questi prodotti in sostituzione di un vostro prodotto pensando più a rimuovere le macchie ma fate attenzione di non mischiare troppi acidi perché potete irritare la pelle d'accordo? e di non mischiarlo forse con il retinolo se ancora siamo all'inizio dell'autunno e la vostra pelle non è abituata comunque ad ottobre ne parlerò tanto sul retinolo questo settembre continuo a parlarvi un pochettino della rentre dalle vacanze io vi saluto non avrei mai da dirvi solo che qua sotto ricordatevi di scrivervi di fare così se vi è piaciuto così se non vi è piaciuto il campanello tutta l'informazione c'è sotto mi potete scrivere commenti mi potete ringraziare mi potete fare delle domande cerco di rispondere a tutti in questo periodo dopo le vacanze sto sendo un pochettino lento per rispondere ma mi sto aggiornando e sto velocizzando le cose rispondo sempre io quindi è difficile forse a volte seguire il filo trovate questo audio nel podcast di Spotify mi trovate anche su Instagram e su TikTok con contenuti più brevi e mi trovate di nuovo la settimana prossima con un nuovo video il prossimo giovedì vi saluto grazie mille ciao 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 ciao